Ciao a tutti dal Cadave e benvenuti in un nuovo video. Allora, volevo dire subito una cosa. Ovviamente ieri sera, 25 aprile, sono andato a vedere I Vendicatori e è bellissimo, è un film epico e ho deciso di non fare nessun tipo di video dove parlo di questo film perché verrebbe fuori tipo un video di un quarto d'ora dove io dico, oh mio Dio, andate a vederlo perché è una cosa che, buon Dio, è bellissimo, è epico. Come si diceva l'altra sera con i miei amici, lo aspetto questo film da quando ho imparato a leggere i fumetti, cioè da quando avevo sei anni, sette, che ho iniziato a leggere L'Uomo Ragno che voglio vedere un film con i Vendicatori. L'ho visto, sono felice come una Pasqua, sono andato a vederlo a Pioltello nella sala IMAX in 3D, ottimi effetti, ottimi comparto video-audio-video, sono andato con Polimar, col Tollo, con un sacco di altra gente, ci siamo divertiti, è un film meraviglioso che ogni amante dei fumetti dovrebbe andare a vedersi, punto. E si conferma il miglior film della Marvel. Detto questo, di che cosa volevo parlarvi oggi in realtà? Dato che, come avevo fatto un video precedente, avevo iniziato parlando del primo Gears of War, che da poco ho giocato per vedere un po' com'era in rispetto a altri videogiochi odierni, di cosa vi parlerò oggi? Del secondo Gears of War, che ho finito da poco, ed è bellissimo, ragazzi, ma questa saga, ma che cosa mi stavo perdendo io prima di prendermi un Xbox? Cosa mi stavo perdendo? È bellissima, è bellissima, è una saga della Madonna. La storia, come al solito, non è che sia il punto centrale di questo videogioco, perché comunque qui si vede tutto basato sul... Guardate che bella la copertina. Basato sul gameplay e comunque sull'azione frenetica. Ha leggermente più sostanza la trama rispetto a quella del precedente capitolo. Infatti qui avremo la nostra classica ormai amata, almeno da me, Squadra Delta, capitata dal classico tamugnissima Marcus Fenix, con i soliti Dom, Coltrane e anche Baird, che dovranno intraprendere una specie, a me è venuto quasi in mente, il mito di Jasone, cioè è un viaggio, proprio un viaggio per la salvezza dell'umanità. Ed è epico, è epico, perché la trama è già vista, già sentita, ma la sceneggiatura, i personaggi, come sono caratterizzati, gli scambi tra di loro di battute, è quello che rende questo gioco vivo, perché io era da... adesso non per tirarlo sempre in mezzo, ma da Mass Effect, la saga che non mi innamoravo di un gruppo di personaggi così tanto come la Squadra Delta, perché ognuno ha caratterizzato benissimo, ok, sono stereotipati, ma sono fantastici, simpatici, incazzatissimi, proprio di capisceci, Sì, Squadra Delta, sì, li adoro. La Epic sapeva benissimo, non avrebbe fatto scintille, perché il sistema di gameplay, le tattiche, le meccaniche, a parte qualche aggiustatina, è esattamente la stessa cosa del primo, ma, consci di avere un sistema di gioco che è fantastico, buttano dentro, ogni livello è epico, ogni livello succede qualcosa in più, già dall'inizio del gioco, alla fine, non sai mai cosa aspettarti, io non ne sapevo nulla, prima di, perché ho sempre avuto una Playstation, nasco come Sonaro, ripeto, da poco ho preso un Xbox, ho provato il primo Gears, senza, sapendo solo che era una fantastica esclusiva, ci ho giocato, mi sono innamorato, subito mi sono comprato il secondo, dopo averlo finito, ma non avevo mai letto niente in giro del secondo, e sono rimasto estasiato, è bellissimo, se voi avete un Xbox, compratelo, graficamente è un passo in avanti, rispetto al primo, che è assurdo, sempre l'Unreal Engine 3, ma comunque sia, è muscolare, cioè ancora adesso, rende davvero bene, il comparto sonoro, è tutto lo doppiato in italiano, con un ottimo doppiaggio, e anche le musiche sono fantastiche, gli effetti sonori, una piccola appunto, spesso, durante le scene più concitate, avremo esplosioni, locuste che rugiscono, dei casini estremi, e i nostri personaggi andranno avanti a parlare, ma non si sentirà niente, infatti io gli dovevo tipo star così, verso le casse, per sentire bene ciò di cui stavamo parlando, certo non è che ti dicano delle cose, che dici, oh mio Dio non posso non ascoltarle, ma comunque fa piacere sentire, cosa hanno da dire questi, questi ganzoni, la campagna sarà durata una decina d'ore, in difficoltà normale, poi l'ho ricominciata a livello difficile, e il livello di difficoltà si è un po' abbassato, rispetto al primo, che era davvero difficile, a livello normale, cioè il livello difficile del 2, è il livello normale dell'1, quindi fate voi i calcoli, è un po' scalato in basso, però comunque sia, non è una passeggiata, ci sono dei pezzi abbastanza impegnativi, e ho acquistato questa edizione qua, che è quella Xbox Classic, con dentro già anche tutti i DLC scaricabili, e c'è anche una piccola scena tagliata, che vabbè non è che sia imprescindibile, ma è un divertente in più, un'aggiunta divertente, come al solito io ancora non mi son fatto un account Xbox Live, quindi mi vergogno, ma non ho mai provato il multiplayer della saga di Gears of War, mi sento proprio un cretino, perché dovrei, ho visto qualche video, ne ho sentito, ne ho letto un po', ed è fantastico, comunque ho visto che un sacco di gente ci gioca ancora al 2, gioca ancora all'1, poi adesso mi son preso il 3, quindi giocherà anche al 3, non devo ancora iniziare, ed è epocale, è epocale, questa edizione la si trova poco, l'ho pagata 20 euro, no, costa 20 euro, al Media Award, e alla Filtrinelli, GameStop 30, io l'ho pagata 6, al Blockbuster, quindi, fate voi insomma, e niente, quindi ragazzi, l'universo di Gears of War è qualcosa che non mi aspettavo, mi prendesse così tanto, qui abbiamo anche, mi son comprato questo fumetto, Gears of War vuoto numero 1, vedete cos'è che è la Panini, è una bella storia, si colloca tra il primo e il secondo, e racconta un'altra missione della squadra Delta, dove è che devo andare, si, che devo scoprire cosa succede in questi terremoti, che sconquassano tutta la zona di Montevado, è scritta dall'autore della storia dei primi due, dei primi due Gears, ed è disegnato, almeno la prima parte del volume, dall'inglese Liam Sharp, che è davvero bravo, io non so bene cosa ha fatto lui, ha disegnato un po' di Spider-Man, un po' di Wolverine, un po' di Hulk, un po' di X-Man, un po' di Batman e Superman, e Spawn, ha comunque quel tratto realistico, è estremamente violento, che in un universo come quello di Gears of War, è esattamente ciò di cui si ha bisogno, ci sono poi delle tavole di una bellezza, cioè di una tamogneria estrema, tipo questa, vedete, se siete amanti del videogioco, e comunque amanti dell'azione, è un volume che consiglio, volevo provare a recuperarmi anche i libri, ma come da solito sono un po' restio, perché, come dire, non so, i libri tratti da videogiochi, a me continuano a destare sospetti, colpa mia, però, è così, e vorrei leggerli, ma non lo so, perché comunque costano 15 euro, dei volumi, altri anche così, ma come sono scritti, se qualcuno di voi li ha letti, e mi dice, compratevi che sono belli, perché vorrei ampliare io la storia di Marcus, cos'è successo nelle guerre a Pendulum, cos'è successo, cioè, ho visto nessun libro, voglio sapere, ma, non so se mi potrebbero deludere o no, quindi, se qualcuno di voi li ha letti, e me li consiglia, vi prego, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, quindi, il mio voto a questo Gears 2, è senza se, senza ma, un simpatico 9, appena mi farò un Xbox Live, se qualcuno vuole giocare con me, me lo dica, che ci scanniamo di brutto, anche perché così lo finisco la difficoltà folle, e sarò molto felice di finire la difficoltà folle, per prendere su qualche achievement point, che sono fighi i achievement point, ragazzi, qui da Alcadevo, un mega saluto, ci becchiamo alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!